Buongiorno a tutti, come va? Come state? Tutto bene? Good morning Milano! Sono le 7 e 11 minuti che era lunga quella degli Abba, è così, e voi pensate che c'è un orario preciso in cui andrei in opera perché poi dipende dalle canzoni, qui le canzoni ormai durano tra il minuto e quaranta e gli otto minuti e mezzo cioè tutto quello che è possibile e immaginabile c'è in quella durata e quindi insomma dipende a che ora si parte col giornale radio, che oggi era bello pieno di notizie e quindi poi insomma 7 e 11 minuti ma siamo qui, non vi preoccupate con voi tutta la mattina, questo è Good Morning Milano state ascoltando Crystal Radio e come vi dicevo appunto fino alle 9 siamo qua in vostra compagnia anzi grazie mille davvero di farci come sempre tutta questa compagnia e grazie di farci entrare nella vostra routine quotidiana 3317853555, il nostro numero di Whatsapp, ve lo ricordo sempre in apertura di trasmissione cercherò di ricordarvelo anche durante la trasmissione perché poi alcuni mi scrivono e dicono ma qual è il numero per, eccolo lì, 3317853555, ci arrivano le mail, ma qual è il numero per quello lì c'è anche comunque sul sito internet cristalradio.it e soprattutto c'è sulla app, se voi scaricate l'app e ci ascoltate tramite app che va bene sia su iOS che Android, c'è il pulsante Whatsapp e potete condividere con noi la vostra mattinata pronti a partire come sempre pronti ad affrontare Milano nella migliore delle maniere cioè con il sorriso sulla faccia, stampato, bello, felice, contenti di iniziare questa giornata insieme in vostra compagnia, in nostra compagnia fino alle 9 qui su Crystal Radio con Good Morning Milano e poi vi ricordo anche goodmorning.milano.it è il sito internet dove potete trovare tutto quello che succede qui tutti i vari pezzettini, tutte le varie interviste, tutte le proposizioni, tutte le riproposizioni anche su Spotify ed Apple Podcast e questa era Donna Summer con Hot Stuff 7-17 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano 331-78-53-555 arrivano già i vostri i vostri Whatsapp arrivano già qui in redazione come quello di Alberto che ci scrive buongiorno Fabio, buongiorno alle ragazze in redazione un buon inizio di giornata a tutti i cristallini, grazie mille Alberto per il tuo messaggio oggi non dovrebbe piovere mi viene spontaneo quando leggo i messaggi di Alberto vedere se piove o non piove in realtà c'è qualche forse goccia Beatrice, tu che sei esperta di meteo oggi non deve piovere no, oggi non danno pioggia perfetto, ok c'è la mia meteorologa di fiducia qui in studio che mi dice se e quando come piove oggi niente tra parentesi, temperature che, e si sente anche dalla mia voce continuano a fare le bizze nel senso che cosa succede? vanno giù e vanno su in una velocità estenuante in questi giorni in omicrossi oggi o domani si prospetta una massima di 21-22 gradi che è tantissimo per essere al 29 di ottobre e minima però intorno agli 11 gradi quindi insomma 10 gradi di sbalzo poi avete tutti questa voce comunque continuiamo così a farcela leggevo da Corriere della Sera Milano questa notizia il cenacolo Vinciano torna alla Pinacoteca di Brera cosa cambia per il capolavoro di Leonardo? allora no, non è che l'hanno scalpellato via dal muro di dove sta adesso l'hanno portato via dal lì nel refettorio appunto di Santa Maria Maggiore e l'hanno portato in Brera no, passa sotto la custodia sotto la gestione ok? la riforma del Ministero della Cultura dice appunto che l'ultima cena è stata accorpata alla direzione di Brera insieme a cosa? la Pinacoteca alla Braidense e a Palazzo Citterio sotto la direzione di Angelo Crespi questa è una riforma che in realtà erano tanti anni che si voleva affrontare è stata così già nel passato quando negli anni 80 l'Accademia di Brera scusate, negli anni 80 e del 1800 ho detto bene adesso l'anno 1882 pensate già già all'epoca gestiva sia il cenacolo che l'arco della pace per esempio ok? perché è proprio l'idea di farlo diventare un polo museale di gestione ok? dei beni culturali che ci sono in città quindi da oggi appunto il cenacolo Vinciano torna sotto la direzione della Pinacoteca di Brera come appunto più di un secolo fa ben più di un secolo fa comunque un'altra notizia che invece ho trovato su sempre Corriere della Sera è una notizia carina che vi invito ad andare a leggere Piazza Stuparic a Milano e le tracce della ballerina che ispirò la canzone di Marinella di De Andrè beh sì perché nel 1953 Maria Boccuzzi venne ripescata appunto in Piazza Stuparic dalla corrente torbida dell'Olona poi appunto interrato e quindi ad oggi ancora un delitto rimasto irrisolto questo perché Piazza Stuparic è in questo momento sottosopra si sta costruendo la nuova preferenziale per la 90-91 e tutta la piazza è appunto rivoluzionata si vedono anche appunto qua e là gli scorci di un fiume Olona che passa lì sotto e allora da qui appunto viene fuori questa storia appunto di Boccuzzi Boccuzzi Maria che è nata a Redicina in provincia di Reggio Calabria che il 28 gennaio del 53 a mezzogiorno viene tirata fuori dalla corrente torbida dell'Olona proprio lì in quella zona in cui prati e case erano in costruzione e un operaio uscito da un cantiere imboccava un ponte che scalava il fiume là dove c'era una breve cascata da lì sembrerebbe che De Andrè si sia ispirato appunto per la sua famosa canzone di Marinella che appunto viene ripescata dal fiume e forse quel fiume era proprio l'Olona insomma prende tutta un'altra immagine questa pensare che sia in Piazza Stuparic su l'Olona pensa te cosa si scopre leggendo i giornali e così sembrerebbe appunto 1953 un piccolo fatto di cronaca poi influenzerà poi De Andrè nel futuro per scrivere questa negli anni successivi appunto per scrivere questa canzone appunto la canzone di Marinella 7 e 25 minuti dai giornali arrivano notizie sui trasporti in attesa di lo sciopero dell'8 di novembre che sta smietendo vittime in città adesso che tutti sono sull'alto là perché non si capisce se veramente non ci saranno queste facce di garanzia c'è la gente si sta già sclerando e non sta come muoversi se non è che il giornalino non uscirà nessuno di casa con la fine oppure tutti a piedi tutti a piedi continuiamo a camminare nella città a piedi ragazzi effettivamente si può tranquillamente trasversare a piedi questa città cioè volendo si può fare tranquillamente comunque non parliamo di ATM di cui abbiamo parlato ieri ma parliamo di Trenord che ha trovato il piano antichrisi per i pendolari lombardi volete sapere qual è? ve lo leggo della Repubblica Milano fermate tagliate nelle piccole stazioni e meno corse qui quando quando proprio il genio al pozzia capito un brainstorming ci ha voluto per tirare fuori questa roba troppi disturbizi per chi viaggia in treno verso Milano dalle province di Varese Sondrio la nuova opzione sul tavolo di aziende e sindacati cioè tagliare fermate nelle stazioni piccole e fare meno corse complimenti tagliare alcune corse per garantire maggiore puntualità capito? è così una roba è come dire io faccio una corsa con altre otto persone però non sono sicuro di vincere taglio le gambe a cinque persone così siamo solo in tre corse magari ce la faccio a vincere il concetto è lo stesso comunque oppure in alternativa potenziare i collegamenti diretti dai comuni capoluogo in Milano saltando le fermate intermedie minori quindi facendo corse più express capoluoghi dei comuni capoluogo direttamente quindi quelli che avvicinano nelle frazioni quelli che avvicinano nei comuni più piccoli quelli che magari utilizzano le frazioni più piccole perché è comoda niente via fuori dalle scatole i sindaci del comune Lombardi hanno chiesto soluzioni in tempi rapidi per risolvere il problema dei ritardi e delle soppressioni diventate ormai una routine giornaliera tanto che davvero quando ormai si programma un viaggio non è per niente semplice programmarlo adesso che si ha paura appunto di perdersi quella comunque questa è l'idea rende pure la corsa degli orari appunto più più puntuale grazie a dei tagli questa è l'idea geniale che è venuta a quelli di Trenode e anche agli altri comunque buongiorno a tutti e grazie per aver riprodotto questo capolavoro buona giornata questa è Erika che ci ringrazia per la canzone di Marinella e poi chiudo con un altro messaggio molto molto bello che arriva da Alberto che ci dice ieri ero sull'Ario e ho ascoltato Crystal Radio da Lecco a Bellagio e sul Ghisallo è stato piacevole ascoltare delle voci amiche in una uscita fuori Milano che ahimè non era per motivi felici grazie a tutti voi e grazie a te Alberto grazie davvero a tutti loro a tutti coloro che animano questa radio tutti i giorni 24 ore su 24 365 giorni all'anno 40 anni su 40 anni perché ricordiamo appunto che quest'anno sono i 40 anni di Crystal Radio e tutto questo insomma ci fa molto molto ci rende molto fiero nel senso che sono molto molto felice sono felice anche di poter così essere una voce amica che magari aiuta qualcuno nel momento di difficoltà nel momento di stanchezza nel momento in cui deve andare chissà dove Rino Gaetano con Sfiorivano le Viole alle 7.39 minuti perché però proprio Rino Gaetano quest'oggi perché era il suo compleanno tanti auguri a Rino Gaetano avrebbe compiuto 74 anni nato nel 1950 appunto lasciato troppo lasciatoci troppo presto ma per fortuna rimane la sua musica che possiamo ascoltare tutte le mattine qui su Crystal Radio non solo anche nella vostra vita non siete costretti a ascoltarla solo qui da noi comunque alle 7.39 invece ci colleghiamo dall'altra parte del mondo quasi o meglio andiamo nella zona del Caucaso da quelle parti lì più o meno stiamo andando in Georgia ci colleghiamo con Tbilisi dove è collegata con noi in questo momento dall'aeroporto punto di Tbilisi Chiara Squarcione buongiorno Chiara ciao buongiorno buongiorno a tutti e tutte grazie per questo collegamento allora Chiara tu fai parte della delegazione di Europa Radicale che è partita dall'Italia il 25 di ottobre per andare a dare un'occhiata così per usare un eufemismo a cosa sarebbe successo appunto per le elezioni in Georgia ma perché era importante essere lì e poi cosa è successo allora innanzitutto era importante ed è importante non solo essere stati ma continuare a venire ad essere accanto al popolo georgiano perché queste elezioni sono state delle elezioni cruciali non solo per la Georgia ma in realtà per tutto quanto quello che è l'assetto geopolitico e gli equilibri non solo di quest'area del mondo ma di tutta quanta l'Europa perché è chiaro che il vicino del nord di questo paese si chiama Russia paese con il quale la Georgia intratiene ovviamente soprattutto per vicinanza ai rapporti economici tuttora da moltissimo tempo che sono sostanziali per un paese che è comunque estremamente povero ancora però dall'altro lato è ovvio che è un paese che ancora non è riuscito del tutto a emanciparsi da una certa aura soprattutto politica e culturale russa ricordiamo che la Georgia sarebbe una nazione indipendente a tutti gli effetti dal 1989 più o meno giusto cioè della caduta appunto della grande Unione Sovietica in teoria certo caduta del muro di Berlino cambiano una serie di cose dopodiché ricordiamoci che in quest'area del mondo ci sono state guerre civili ci sono state sanguinose battaglie quindi diciamo che in realtà sono circa 25 anni che veramente questo popolo è libero e veramente in un percorso profondamente democratico però non tutto però non tutta la Georgia perché ci sono due zone appunto della Georgia che sono la Bacazia e l'Ossezia che sono occupate dalle forze appunto militari russe e come dimmi se sbaglio Chiara è come se noi avessimo il Piemonte e il Veneto con gli svizzeri che ce lo conquistano esatto solo che non sono svizzeri ecco dice una romana che è abituata alle guardie svizzere ma sono circa 150.000 militari russi che occupano dal 2008 il territorio il territorio georgiano ora è chiaro che siamo in epoca post-studiatica quindi non stiamo facendo paragoni di questo tipo ma c'è un tema che sono 25 anni che c'è un personaggio in Russia che si chiama Vladimir Putin che sta effettivamente costruendo nuovamente un regime il suo ideologo parla con chiarezza del fatto che vogliono dare un nuovo assetto mondiale a tutto quanto appunto a tutto quanto il mondo e quindi propongono una strada che è assolutamente contraria a quelli che sono i principi democratici liberali che sono propri della comunità europea ora in Georgia esiste una fetta di popolazione soprattutto giovane ma non solo quindi sto parlando più che altro di universitari ma anche di laboratori diciamo quella fascia fra entro i 50 anni che invece guarda assolutamente all'occidente e guarda assolutamente all'Europa e a tutto ciò che l'Europa significa significa pace significa democrazia significa libertà significa diritti civili e queste elezioni erano un po' anche appunto per definirsi per capire per decidere da che parte andare e com'è andata però com'è andata è andata che innanzitutto c'è un panorama politico molto frammentato da un lato c'è Georgian Dream che è questo partito conservatore di Ivanishvili che è il partito Filoputin vado semplificando alla grande poi vi guarderete la biografia di Ivanishvili e capirete che cosa intendo e dall'altra parte c'era un gruppo di opposizioni molto variegato con quattro forze principali che hanno firmato perché la presidente Zurabicvili che chiamerò Salome perché sono improntati i cognomi ha richiamato all'ordine diciamo così facendogli firmare una carta di accordo in modo tale da non andare a disperdere i voti delle forze democratiche è andata che la gente è andata a votare in una buona percentuale per questo paese siamo abbondantemente sopra il 50% degli eventi diritti al voto scusate la voce sopra dell'aeroporto e quello che è successo è che non tanto a Tbilisi dove noi eravamo ma nella periferia di Tbilisi e nei paesini intorno nei villaggi intorno di Tbilisi che è l'unica vera città della Georgia ci sono state violazioni violenze intimidazioni soprattutto va detto da parte degli affiliati a Sogno Giorgiano per cui molte persone non sono andate a votare la Presidente Giordano Civile ha detto non cedete alla paura andate comunque a votare si è sentita di dover fare questo affello durante il giorno del voto un attivista di uno dei partiti di opposizione è stato brutalmente picchiato e quindi è stato anche ricoverato in ospedale ci sono state evidenti violazioni dopodiché diciamo anche però una cosa e chiudo che il paese ne è un filo spaccato è ovvio che quando tu vedi che fra le proiezioni e i dati reali ci sono 10-13% di distanza è evidente che c'è stato qualche problema e non è possibile che i piccoli villaggi della periferia estrema abbia votato il 100% degli eventi diritti al voto insomma si chiamavano percentuali bulgare oggi vogliamo chiamare percentuali putiniane non lo so si esatto decidiamo come chiamarle è evidente che questi sono tutti segni di una infiltrazione potente non solo della propaganda russa ma della mano russa sull'andamento di queste elezioni che appunto non solo per l'Europa per noi europeisti sono cruciali ma ovviamente sono cruciali anche per Putin è fondamentale quindi come dicevi te esserci e continuare appunto a rimanere con gli occhi ben aperti perché insomma se l'Europa è quella cosa che vogliamo e tanto vorremmo fosse anzi magari anche più presente e più strutturata si passa anche da questi momenti che sono cruciali per la vita dell'Europa e quindi anche poi ovviamente poi riporto tutto anche dell'Italia e quindi anche di Milanesi perché poi questo dove siamo inseriti no? Se ho tempo dico una cosa volante per dirti quanto hai ragione con questa affermazione ieri eravamo in piazza è nasciata Rustavelli Avenue che è questa enorme strada nel centro di Tbilisi che passa proprio davanti al Parlamento in una manifestazione partecipatissima piena di gente noi come Europa Radicale eravamo là con il nostro banner Georgia is not Russia che sembra una frase verale ma in realtà è sostanziale abbiamo ricevuto tantissimo sostegno dai georgiani presenti e quella piazza è stata chiamata dalla presidente Salomè che dal palco ha detto una cosa molto forte ha detto al suo popolo ha detto ai georgiani in piazza erano veramente tanti voi non avete perso queste elezioni queste elezioni vi sono state rubate che è chiaro che è un posizionamento anche rideristico perché un po' effettivamente queste opposizioni sono un po' sparpagliate insomma non stanno capendo bene come poter prendere in mano la situazione e però la forza di questa donna di questa presidente di aver avuto l'idea di chiamare in piazza i georgiani i georgiani hanno risposto hanno risposto sì la Georgia dice sì alla democrazia dice sì ai diritti civili dice sì all'Europa anche tante bandiere ucraine ieri in piazza con voi so giusto tantissime tantissime i muri i muri di Tbilisi gridano slava ucraini da tutte le parti ci sono bandiere della Nato ci sono bandiere dell'Europa bandiere dell'Ucraina perché è evidente ti faccio un esempio quando noi diciamo propaganda che cos'è la propaganda vi faccio un esempio sui muri di Tbilisi Georgian Dream ha riempito questi muri di foto di città ucraine affiancate a città invece anche piccole città come Gozzi per esempio della Georgia e la scritta sotto è molto semplice se non vinciamo finiamo come l'Ucraina questa si chiama propaganda questo significa fare leva sulla paura delle persone intimidazione questo significa essere essere intimidatori e la risposta dei georgiani è sventolare le bandiere ucraine a supporto ancora una volta di chi oggi sta difendendo i confini orientali della nostra democrazia che è appunto la resistenza ucraina ecco insomma e se tante bandiere europee vengono sventolate in quei luoghi facciamoci anche le domande magari poi quando parliamo di Europa non pensiamo solo alle quote latte a cosa dice l'Europa sul Moscardino quelle cose di ecco nel senso quindi l'Europa è davvero qualcosa di importante e interessante e grazie agli attivisti come voi che insomma ce lo ricordano ogni giorno grazie mille a Chiara Squalcione grazie mille alla delegazione Punto di Europa Radicale che in questo momento sta tornando da Tbilisi in Italia e insomma ci sentiamo e ci aggiorniamo sulle prossime va bene? certo un saluto grazie a tutti e a tutti arrivederci grazie mille ancora Chiara Squalcione andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo qui sempre alle 7.49 su Christian Radio Good Morning Milano Pezzo per pezzo Farrah Williams ci riporta qui a Milano alle 7.52 con le ultime notizie prima della pausa del giornale radio in cui appunto avremo le notizie invece nazionali leggo da Repubblica Milano senza tetto emigranti occupano la piscina Scarioni l'impianto di guardia in attesa dei lavori di risanamento la rete sociale ci siamo accompagnato nel centro balneare le persone rimaste senza un tetto dopo l'incendio della palazzina di via Fracastoro in tenda a questo punto dall'autunno a questo punto dell'autunno fa troppo freddo perché sì se noi da una parte siamo in casa belli sereni che diciamo anzi c'è l'umidità non ci asciugano le cose ma il riscaldamento si lo ha acceso ma solo appunto per togliere un po' non fa così freddo beh vivete voi in una tenda all'aperto una di queste sere poi ne riparliamo e così appunto i migranti che erano accampati da una decina di giorni in piazza Donato da Vinci sono spostati nell'ex centro balneare Scarioni di via Scarioni scusate di via Valfurva a Niguarda ne dà notizia appunto i militanti della rete sociale ci siamo che hanno accompagnato i senza tetto nella loro periglianazione per i quartieri di Milano dopo l'incendio del settembre scorso nella palazzina di via Fracastoro la scelta di occupare il centro balneare Scarioni in via Valfurva 9 non rappresenta dunque una sistemazione stabile nella soluzione del nostro problema spiegano appunto gli occupanti oggi il nostro primo obiettivo è quello di non disperdere la nostra comunità di lotta per continuare ad avere la forza di rivendicare ottenere una casa dignitosa a prezzi sostenibili un bisogno essenziale per noi e per tutti quei lavoratori che vivono le nostre stesse condizioni la nostra lotta è la stessa di quella per la salvaguardia dei beni pubblici come lo spazio che oggi ci ospita così come quella per una scuola e una sanità accessibile insomma come sempre bisogna sempre andare a leggere oltre quello che può essere l'azione che magari viene poi editata da molti come dire ecco ho visto i soliti centri sociali che fanno quello andiamo bene a leggere le cose poi potete anche continuare a dire non è questa la soluzione non è questa la modalità benissimo sono accetto ovviamente che ognuno abbia la sua idea ma bisogna farsi un'idea e quindi bisogna ben ascoltare ben leggere quello che viene fuori e le rivendicazioni che fanno questo gruppo sono sacrosante di una Milano che spesso ha queste problematiche poi ripeto ci sono modalità modalità ognuno poi troverà le sue e queste hanno trovato questa modalità e insomma vedremo poi se la politica avrà finalmente voglia di rispondere perché poi di base è questo quando ci sono azioni del genere sono fondamentalmente delle domande che vengono poste alla politica ma la politica ha voglia di rispondere ha voglia di prendere davvero posizione su questi temi e rispondere e dare delle risposte concrete alla cittadinanza hanno il coraggio a volte di fare qualcosa che magari va anche oltre quello che si può fare o magari oltre quello che avevi detto di fare durante le elezioni di le elezioni The Rockets 5 5 5 5 5 5 5 grazie ancora ad Alberto per i suoi whatsapp e introduciamo invece l'ospite di questa mattina andiamo in comune andiamo in consiglio comunale e lo facciamo insieme a Federico Bottelli buongiorno consigliere Bottelli buongiorno buongiorno a tutti grazie per l'invito allora grazie a te Federico di essere qui ci davo del tuo insomma sei uno abitué di questi studi quindi insomma in tutte le varie salse di questi anni qui tra Milano News Municipio X Good Morning Milano video audio insomma sei passato in tutte le hai viste tutte le hai viste tutte anche perché insomma nonostante la tua giovane età ormai sei un politico navigato non esageriamo però sì insomma tra il consiglio di munici prima e il consiglio comunale oggi sono otto anni da amministratore locale da giovane per un ragazzo di 16 anni insomma ne ho 29 sono per superare la soglia psicologica dei 30 tranquillo che poi c'è quella di 40 dopo quindi è ancora peggio e mi dicono così che qua i 50 ancora quindi insomma c'è sempre una soglia da superare no questo per dire cosa comunque sei uno che appunto già a vent'anni già eri in consiglio municipale in consiglio di municipio e sei uno che insomma la cosa pubblica la res pubblica l'hai sempre seguita con tanto passione sì e devo dire che in questi anni ho imparato anche tanto perché gestire la cosa pubblica non è semplice e ci sono c'è una macchina molto complessa come Milano a 12.000 dipendenti quindi è una cosa quando si muove è molto importante tra cui te vengono contati anche i consiglieri comunali o no in questi 12.000 sì sì assolutamente siamo lavoratori siamo assimilati dipendenti assimilati dipendenti si dice ok perfetto ma insomma ne hai viste di cotte e di crude verrebbe da dire ne hai imparato tanto però questa cosa è fondamentale credi che serva anche proprio per la tua formazione come essere umano in un certo senso senza alcun dubbio fare l'amministratore locale occuparsi della cosa pubblica nell'interesse di tutti è un'esperienza formativa in tutti i sensi competenze ma soprattutto anche lato proprio umano ecco io poi in questi anni ho sempre cercato di mantenere il contatto col territorio che poi è fondamentale perché dobbiamo dare risposte a chi poi vive nei quartieri e nella città e quindi essendo molto legato al municipio 7 a questo territorio ho sempre cercato di tornare incontrare girare la città conoscere nuove realtà che è poi quello che ti insomma caratterizza una città che appunto insomma già il municipio 7 è praticamente un comune lombardo più o meno 180.000 abitanti una città che insomma non deve essere facile non bastano 8 anni per scoprirla tutta e per conoscerla assolutamente infatti ogni consigliere comunale conosce un pezzettino ovviamente e ognuno si specializza come è giusto che sia su un tema a cui tiene molto io faccio la fortuna di fare il presidente della commissione casa in un momento in cui il tema della casa è centrale sei sicuro che sia una fortuna questa? non so ma ho avuto la fortuna di sceglierlo questo tema quindi comunque è colpa mia ecco ok non puoi dare la colpa a nessun altro esatto no io penso che sicuramente il tema della casa è centrale oggi da tempo tutti denunciano l'aumento insostenibile degli affitti ed è così però penso che sia una bella sfida cercare di dare delle risposte a un tema così complesso che magari non è neanche un tema che come dire un comune a cui un comune può dare da solo delle risposte è difficilmente ricomprensibile come tema perché ovvio che noi vediamo la punta il finale il fatto che ecco non posso permettermi di comprare casa non posso permettermi di andare in affitto punto colpa piove governo ladro cioè questo è il concetto esatto forse è un po' più complessa decisamente molto più complessa anche perché le esigenze poi sono più articolate c'è l'esigenza di dare una risposta alla fragilità estrema attraverso le case pubbliche c'è l'esigenza di dare una risposta ai lavoratori adesso col piano casa stiamo cercando di fare questo c'è un'esigenza di dare una risposta di casa non in generale a chi ne ha bisogno ma in base alle proprie esigenze come dicono tutti gli studi uno deve pagare un affitto che sta intorno al 30% del proprio reddito indipendentemente dal proprio reddito quindi diciamo benvengano i ferragni che si possono permettere quella casa là ci mancherebbe non so se possono più permettersi adesso però bisogna anche fare in modo che invece il buon consigliere Bottelli invece abbia una casa parametrata sullo stipendio di un consigliere comunale che sappiamo non essere miliardario esattamente ovviamente partendo da quelli che hanno meno quindi si parte con la risposta pubblica poi c'è una risposta calmerata gli affitti insomma fuori dal libero mercato e poi c'è il libero mercato è ancora più complesso intervenire il problema che qui è libera giungla in questo momento il comune può fare qualcosa beh un pezzettino importante lo può fare sicuramente da solo non è risolutivo e il dato politico è che in questo momento in cui il comune sta comunque cercando di dare una risposta col piano straordinario per la casa dove mettiamo a sistema 20 aree andiamo a rigenerare delle aree che oggi sono cementificate costruendo alloggi calmerati il piano prevede la costruzione di 10.000 alloggi in 10 anni quindi una risposta molto importante ecco in questo diciamo ricerca di dare una risposta la totale assenza di regione e governo è evidente su come costruire queste 10.000 case su come gestirle poi adesso ne parliamo di nuovo perché poi il concetto è quello ok i numeri ok dare gli spazi ma bisogna fare in modo che poi quegli spazi siano veramente calmerati siano veramente disponibili per quelle persone che avranno a disposizione quel tipo e quella tipologia appunto di abitazione e so che su questo poi ne parleremo ad esempio sugli studentati hai fatto una bella scoperta diciamo che hai portato poi in consiglio e si è discusso tanto 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 dopo Charlie Puth dopo Light Switch torniamo qui con Federico Bottelli Light Switch Charlie Puth alle 8.21 c'è quel TH finale che beh devo per forza leggerlo così cioè mi istiga a leggerlo Charlie Puth così comunque Federico Bottelli senza lacca qui con noi dal Consiglio Comunale di Milano per parlare del piano casa ma prima appunto dicevo il piano casa si pensa di fare 10.000 appartamenti poi calmerato ci saranno delle convenzioni e tutto convenzioni che si usano spesso anche per altre situazioni come ad esempio gli studentati ma poi il buon Bottelli scopre qualcosa si scopre che queste convenzioni alla fine non prevedevano dei posti letto così tanto calmierati un esempio che abbiamo portato un po' all'attenzione pubblica è quella dello studentato al villaggio olimpico quindi nello scalo di Porta Romana ci sono le gru che stanno costruendo il nuovo villaggio olimpico fondamentale per la buona riuscita delle Olimpiadi dopo le Olimpiadi diciamo quell'immobile diventerà il più grande studentato in Italia 1700 posti letto una cosa abbastanza importante una piccola città proprio così e la convenzione prevedeva una serie l'8% di posti calmierati e altri fino ad arrivare a 1000 euro al mese a posto letto a posto letto a posto letto non un trilocale un bilocale no a posto letto una doppia a 1000 euro non me ne vogliono quelli ma secondo me manco se fai la nabola a Yulm te lo puoi permettere non so chiediamo alla nostra regista che fa a Yulm poi glielo chiediamo però in realtà è impressionante è un prezzo esageratissimo però evidentemente questi sono del mestiere nel senso non fanno prezzi fuori dal mondo quindi evidentemente rispetto alle informazioni che hanno quei posti li riempiono fortunatamente questo è un diciamo un progetto partecipato anche dalle istituzioni pubbliche e siamo arrivati noi abbiamo detto scusate ma forse 1000 euro a posto letto un po' fuori dal mondo siamo riusciti a intervenire abbiamo portato i prezzi calmerati che comunque stanno intorno ai 450 435 per l'esattezza euro a posto letto ok è decisamente più accettabile dall'8 al 30% e comunque abbiamo a cavolo avete anche alzato notevolmente il percentuale notevolmente in generale la media dei prezzi si è abbassata di molto quindi con un grande intervento votando un ordine del giorno in consiglio comunale facendo anche un bel dibattito sostenuto ma alla fine l'obiettivo l'abbiamo questo è importante perché bisogna tenere gli occhi aperti anche sulle cose che fate voi in un certo senso bisogna stare attenti perché insomma è un attimo poi magari qualche cavillo qualche assolutamente le convenzioni una volta qualche scorciatoio magari si può trovare sì diciamo che io ho capito questo in 8 anni che l'interesse pubblico non si autotutela c'è sempre bisogno di qualcuno che stia lì a difendere tutti i giorni l'interesse pubblico e quindi l'attenzione dei consiglieri comunali che mettono i riflettori su un tema è fondamentale consiglieri comunali come i consiglieri di municipio le giunte di municipio ecco chi è lì a mettere i riflettori su un tema delicato caldo che ha la necessità di essere attenzionato per me è importante perché poi si risolvono problemini importanti è interessante anche che ritorna almeno questa volta centrale il ruolo del consiglio comunale dai ce l'avete fatta ogni tanto sono nascendo un po' bistrattati quindi io sono molto solidale con il vostro lavoro quotidiano ti ringrazio se ne abbiamo bisogno ogni tanto e allora andiamo con un po' di musica poi due consigli per gli acquisti poi torniamo qua insieme a Federico Votelli perché affrontiamo per bene il piano casa che cos'è come funziona quando inizierà come andrà Federico sa tutto quindi potete anche farci tutte le domande che volete al 33178 53555 Megan Treino intanto si chiama piano straordinario per la casa ok il titolo è importante DOCG è questa qui esatto ma sostanzialmente partiamo da una considerazione chi oggi guadagna lavoratrici lavoratori 1000 1500 ma arrivo anche a dire 2000 euro al mese da questa città fugge se ne va non è più in grado di poter rimanere a vivere in questa città perché perché il costo della vita è sicuramente molto alto e il costo della casa è impattante sul reddito è determinante e quindi una strategia per dare un po' di respiro è quella di offrire case accessibili a prezzi davvero bassi alle lavoratrici e lavoratori questo è insomma il piano perché appunto non stiamo parlando di povertà assoluta di persone indigenti parliamo di quelli che si ritrovano ad avere un lavoro un lavoro pagato più o meno bene ma insomma però pagato e che comunque nonostante questo non riescono a gestire quello che è appunto la necessità di un'abitazione esattamente poi ovviamente il piano dà una risposta anche alle fragilità estreme c'è un pezzo che tocca le case di proprietà del comune le tante case sfitte che dobbiamo mettere a posto però diciamo il cuore del piano straordinario per la casa cerca di dare una risposta al ceto medio il ceto medio è un poverito alle lavoratrici ai lavoratori come mettendo a disposizione una ventina di aree di proprietà del comune di Milano prevalente la stragrande maggioranza sono aree degradate già pavimentate infrastrutturate quindi cerchiamo di stare molto attenti sul consumo di suolo sul tema ambientale un paio di esempi giusto per capire un paio di aree che ti vengono in mente così dal volo l'ex Palasciarp l'area dell'ex Palasciarp c'è l'area di via San Romanello a Quinto Romano c'è un'area molto grande a Porto di Mare c'è un ex studentato mezzo costruito mezzo no in via De Mostene municipio 2 quindi c'è anche un tema di recupero dei vuoti urbani che è un tema molto importante tante costruzioni lasciate un po' a metà quindi non c'è consumo di suolo perché sono costruzioni che vanno recuperate per dare risposta ai lavoratori ecco quando vado in Expo a lasciar un po' così sì lì già c'è il cemento quindi sarebbe bello avere un parco sì bellissimo però tra che c'è la montagnetta davanti e poi vi assicuro che io porto sempre questo esempio io ho visto la costruzione della biblioteca degli alberi che è un bellissimo parco ma vi assicuro che non è che costruire un parco sia meno impattante a volte perché lì dove non c'era un parco ed è stato costruito è stato molto impattante comunque poi adesso bellissimo nel senso ecco la cosa interessante però di questo piano appunto è che dà risposte alle varie necessità di questa città non solo l'emergenza ma anche appunto una riqualificazione e rigenerazione come si può fare una riqualificazione e una rigenerazione però che abbia un senso stando molto attenti sul piano della fattibilità proprio piano economico l'obiettivo unico direi il caposaldo di questo piano è offrire case a 80 euro metro quadro anno che per i non addetti ai lavori vuol dire diciamo 400 euro per un 60 metri 400 euro al mese per 60 metri 400 euro al mese adesso credo ci prendi un box qualcosa del genere ok e come è possibile farlo nel senso chi ci mette i soldi e chi ci va a perdere i soldi mi farebbe da dire a questo punto no come funziona diciamo che per la prima volta dopo 25 anni il comune di Milano costruisce nuove case che non saranno diciamo tecnicamente proprio al 100% i proprietari del comune di Milano come le case popolari ma è un progetto a forte presenza e cabina di regia pubblica forte vocazione pubblica diciamo esatto esatto forte vocazione pubblica e quindi come si arriva a questo prezzo finale molto accessibile facendone male costruendone male no assolutamente no mettendo a disposizione delle aree gratuitamente abbattendo quei costi che sono in così costruzione gli oneri di urbanizzazione sostanzialmente le tasse che gli operatori incidono così tanto nella costruzione di una beh abbastanza sì sì magari incidono di un 15-20% insomma abbastanza considerevole e soprattutto il Comune di Milano si riserva la possibilità di andare diciamo a dare anche risorse economiche quindi l'obiettivo unico obiettivo è offrire case 10.000 alloggi in 10 anni a 80 euro metro quadro anno per la prima volta dopo 25 anni di svendita di case pubbliche mi viene in mente bottelli come fanfani sembra quasi un piano fanfani beh guarda il piano fanfani prevedeva 21 14.000 alloggi costruiti in 20 anni qui siamo 10.000 in 10 anni bottelli miglio di fanfani questo lo sta dicendo non so se avete visto ha flexato in questo momento facendo questa cosa comunque no però ci tengo a dirlo è tutto diciamo il merito non tutto però insomma buona parte del merito c'è il nuovo assessore alla casa l'assessore Guido Bardelli che è una persona estremamente competente e fin da subito ha avuto questo obiettivo mi sembra che per ora siamo molto positivi però non è che siamo positivi e stop e va bene così ecco perché se no c'è una domanda successiva bene bravi avete scritto tutto sulla carta bravissimi ma cosa succede però quando è che cominciamo a vedere qualcosa questo è importantissimo insomma c'è l'impiede dopo domani quindi non possiamo neanche mettere la città sotto sopra come funziona adesso questo piano enorme ovviamente si sviluppa in diverse fasi c'è una prima fase che può partire subito e che partirà subito che è la messa a disposizione delle prime quattro aree sono quattro aree che non hanno necessità di essere bonificate sono quattro aree già pavimentate insomma sono già edificabili da PGT quindi non le dobbiamo neanche modificare nel piano di servizi e quindi le prime quattro aree vanno andranno così velocemente in un paio di mesi si farà un avviso pubblico parteciperanno quei mondi che si possono permettere di avere una redditività così bassa quindi la domanda di prima di chi ci perde è perché qui non stiamo parlando di operatori privati speculatori noi stiamo chiedendo di collaborare col comune di Milano a quei soggetti che sono del mondo mutualistico le cooperative edificatrici c'è una selezione all'ingresso c'è una selezione perché l'obiettivo è fare affitto permanente gli speculatori non faranno mai affitto permanente costruiscono e poi vendono al massimo possibile nei tempi che ritengono invece l'obiettivo è fare affitti calmerati e farli permanenti quindi anche un ritorno appunto della cooperazione edilizia è una commissione appunto una nuova sinergia tra il pubblico tra il comune e le cooperative che insomma a Milano sappiamo hanno fatto tanto hanno fatto la storia di questa città dal punto di vista edilizio le cooperative sono dei partner importantissimi quindi e offrono già oggi dei modelli esistenti prendo un esempio posso? faccio anche nomi e cognomi perché ci tengo la cooperativa abitare abitare società cooperativa ha 2700 alloggi a Milano 2700 non pochi non pochi offre da una risposta al tema casa a più di 6500 persone 6500 e ha questi affitti qui 80 90 euro metro quadro anno quindi è un modello basato su queste cifre che già oggi esiste e che ci dimostra che si può fare e se si può fare speriamo quindi di vederne i risultati hai pronominato prima il PGT ne parliamo allora dopo la prossima canzone perché appunto poi c'è quello 4 aree ok ma poi c'è il PGT da andare a toccare da andare a capire dite sempre che volete cimentificazione zero poi ogni volta PGT si vedono metri cubi in più metri cubi in più metri in più gli ambientalisti si incazzano e quelli che costruiscono si incazzano anche loro quindi cioè fate arrabbiare tutti ogni volta quindi poi ci spieghi bene come funziona questo PGT cosa è cosa prevede e cosa prevederà perché adesso appunto siete lì per riscriverlo siamo lì ok Gianni Morandi apri tutte le porte e poi torniamo qui con Federico Bottelli Gianni Morandi apri tutte le porte e invece chissà quante porte sono 10.000 le alloggi che dovete fare pensa 10.000 porte dovete aprire Federico aprirle tutte una a una ci vogliono altri 10 anni ma per fare questo piano a casa diciamo fammi capire se è così collegato bisogna ovviamente anche rivedere un attimino il PGT oppure non è così collegato ma fortunatamente le due cose possono andare molto in parallelo cioè il piano straordinario per la casa sta in piedi anche senza modifiche al PGT ma per dare una risposta all'emergenza abitativa all'emergenza casa in questa città è fondamentale cambiare le regole del gioco e quindi il PGT che è quel grossissimo documento che gestisce delinea le regole del governo del territorio cosa dice attualmente o meglio cosa dovrà dire secondo voi e perché dovete riscriverlo perché ormai scade come funziona sì dopo un tot di anni c'è una revisione sì esatto e lo dobbiamo riscrivere perché le esigenze cambiano nel tempo e è fondamentale dare delle risposte e quindi sul tema a casa gli strumenti che ci servono per dire che cosa si può costruire quanto di convenzionato quanto di calmerato quanto in edilizia libera seppur il PGT oggi esistente ha delle regole abbastanza innovative rispetto anche il panorama nazionale pensiamo che sia superato e di dare anche una stretta diciamo ad alcune norme ad alcune regole in favore di un'edilizia più calmerata accessibile e cosa dicono i detattori cosa dicono cos'è che non funziona questo PGT in realtà non è un tema di cosa funziona è di quanto possiamo chiedere e spingerci nel costruire alloggi accessibili oggi le regole dicono che per tutti gli interventi superiori ai 10.000 metri quadri il 40% è obbligatorio destinarlo a edilizia residenziale sociale ad housing sociale che se prima stavamo parlando di 80 euro metro quadro per il piano straordinario qui stiamo tra i 110 i 130 140 euro metro quadro per l'anno libero mercato sta a 240 ok giusto per dare un'idea esatto abbiamo tutti gli stessi parametri quindi sicuramente un prezzo calmerato rispetto al mercato ma già un po' spinto esatto un po' più sostenuto ecco io penso che non sia giusto dire sopra i 10.000 metri quadri io penso che ogni metro quadro di questa città di nuove case di nuovo costruito debba comunque dare una risposta che sia una piccola percentuale a una casa accessibile mi arrabbio sempre quando anche i giornali scrivono 8.000 metri quadri 10.000 metri quadri dammi un'idea cosa vuol dire più o meno un palazzo di non lo so ma diciamo che un condominio medio sta sotto i 10.000 metri quadri un condominio grossino sta sopra i 10.000 la maggior parte delle nostre case in cui viviamo cioè non è un appartamento nel condominio in cui siamo molto realmente siamo sotto i 10.000 metri quadri verosimilmente sì è veramente una piccola parte allora di quello che poi viene sicuramente questo è anche uno degli elementi su cui abbiamo basato questa questa considerazione cioè il numero di progetti che sta sopra i 10.000 metri quadri è un certo numero quelli che si concentrano tra i 5.000 e i 10.000 ad esempio sono tre volte tanto sono infinitamente di più e io penso che se uno costruisce un nuovo palazzo e vuole fare edilizia libera 10.000 euro al metro come dire il mercato gli può dare o meno delle risposte questi sono dove farsi lui i conti ma in quei 5.000 metri quadri di 10.000 euro al metro ci devono essere almeno il 50% 3.000 euro al metro 3.500 euro al metro che è l'edilizia convenzionale chiaro quali sono gli altri punti del PGT che secondo te perché parla poi qui immagino che chiunque poi porterà le sue perché poi se tu vuoi andare in una direzione ci sarà qualcun altro che vuole andare in una direzione ovviamente opposta quindi poi bisognerà trovare il punto di contatto ma se dovessi iscriverlo tu proprio cioè tu questa è la prima proposta poi che altre proposte ci metteresti dentro ma diciamo che fortunatamente la modifica del PGT è un percorso molto lungo dura più di un anno ci saranno diversi confronti siamo solo alla primissima fase molto iniziale chi è che lo si mette proprio lì al tavolo tutti quanti diciamo che la prima proposta la presenta l'assessore alla rigenerazione urbana dopodiché c'è una fase in consiglio comunale di confronto ci sarà un piano quindi approvato che verrà poi sottoposto alle osservazioni di tutti e tutti i cittadini potranno dire la loro sul piano di governo del territorio questo è un metodo di partecipazione secondo me molto importante molto bello forse unico caso su una delibera così importante sai già più o meno quando sarà quel momento così poi tornerai qua magari a raccontarcelo che sa ma io spero che per i primi mesi dell'anno prossimo la prima fase sia conclusa in consiglio comunale quindi poi ci sarà un annetto dove si potranno presentare delle osservazioni a parte gli operatori i cittadini le realtà i comitati e poi ci sarà una fase finale in consiglio comunale di adozione il PGT rimane solo sulla grande area oppure poi va anche magari nello specifico di alcune zone il PGT ha uno zoom molto generale perché definisce alcuni parametri ma poi molto specifico dice qualsiasi diciamo ogni metro quadro di questa città avrà una sua funzione quindi edificabile o meno funziona a servizi o meno quindi arriva molto nello specifico e io oltre a fare il presidente della commissione casa faccio anche il presidente della commissione dei lavori pubblici e mi interessa molto perché è uno strumento che ti serve anche per cambiare un po' il volto della città io penso che Milano sia cambiata molto in questi anni soprattutto post-covid anche grazie alle piazze tattiche che sono gli strumenti urbanistici fondamentali per poter sperimentare abbiamo costruito più di 50 piazze tattiche aperte quindi abbiamo restituito 50 piazze alla città e penso che sia giunto il momento di renderle strutturali e quindi penso che basta tattica ma struttura a questo punto eh sì la tattica ci è servita per studiare capire cosa andava adrizzare esattamente sperimentare e adesso vanno rese in struttura e il PGT ci può essere utile in questo perfetto Federico grazie di essere qui con noi questa mattina abbiamo fatto un bel giro sopra la città è un giro alto ma bello grazie a voi per l'invito è importante seguiremo il piano a casa il piano straordinario per la casa appunto e quindi Federico poi tornerà a raccontarci step by step come andranno i vari passaggi i vari l'evoluzione di questo grande piano che insomma 10.000 all'oggi in 10 anni lo ripeto per farvelo entrare bene in testa perché è davvero davvero qualcosa di molto 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 interessante grazie mille Federico Mottelli grazie Fabio andiamo ancora con una canzone e poi torniamo qui per i saluti finali 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di martedì 29 ottobre di Good Morning Milano ringraziamo ancora Federico Mottelli grazie Federico di essere qui con noi questa mattina grazie Fabio grazie a te grazie a tutti voi seguiremo tutte le tue vicissitudini e lavori del consiglio comunale quanto è bello seguire i nostri politici quando fanno qualcosa e andare a seguire appunto nel loro habitat appunto il consiglio comunale la giunta insomma seguire e capire soprattutto cosa significa fare politica perché quello è fondamentale dopo di noi alle 9.05 invece c'è Ambrogio Curti con senti questa tutta la musica raccontata gli aneddoti le canzoni dietro le quinte raccontati dalla bravissima e competentissima voce di Ambrogio Curti in senti questa alle 9.05 dopo il giornale radio se invece volete riascoltare tutto quello che succede qui in trasmissione con noi goodmorning.milano.it tutto quanto lo trovate lì tagliato montato pronto e anche su Spotify ed Apple Podcast le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Chiara Squarcione Federico Bottelli e qui con voi Fabio Ranfi come sempre alla regia Ginevra e in redazione Beatrice grazie mille a tutti a domani alle 7 qui ciao grazie mille a tutti